Ciao a tutti, io sono Manuel e oggi sforniamo sua maestà la pizza bianca romana Farina in ciotola Sto utilizzando una farina forte, cosa vuol dire? È ad alto contenuto proteico, il suo valore di W che si può trovare ormai in tutte le confezioni è di 3,50 Acqua fredda da frigorifero, ne aggiungerò 650 grammi subito Perché l'acqua fredda? Perché in questo caso non avremo problemi di surriscaldamento eccessivo dell'impasto Io non utilizzerò un termometro, però so che per queste alte idratazioni in cui l'impasto verrà lavorato più e più volte C'è il rischio che si surriscaldi troppo e quindi abbia dei problemi ad incordarsi Quello che sto facendo è, come potete vedere, una mescolata grossolana Farò idratare tutta la farina e poi la lascerò riposare 30 minuti Questo si chiama autolisi In questi 30 minuti la maglia glutinica inizierà già a formarsi Adesso vi faccio vedere, una volta idratata tutta la farina, com'è il nostro impasto Deve essere un impasto grezzo, l'importante è che tutta la farina sia idratata Ok, tutta la farina è stata incorporata Come potete vedere, in questo momento l'impasto non è assolutamente formato Lo copro e lo lascio riposare 30 minuti Guardate come è già cambiato il nostro impasto La maglia glutinica è iniziata a formarsi Se ovviamente l'impasto non è formato, possiamo aggiungere il lievito Il lievito di birra fresco che vado a sbriciolare direttamente La restante acqua, al contrario dell'altra, va aggiunta piano piano, poco per volta Sempre fredda da frigo Uno degli errori più comuni è quello di aver fretta di aggiungere l'acqua Appena vediamo che il lievito si è incorporato all'impasto Aggiungiamo il sale, un altro poco d'acqua E andiamo avanti così Io vi faccio vedere l'impasto a mano Ma voi siete liberissimi di utilizzare i vostri attrezzi a casa Tipo una planetaria Se vi sembra troppo appiccicoso, non vi preoccupate Non aggiungete farina Seguite le indicazioni del vecchio Manu e andrete bene Mi trasferisco sul piano da lavoro Una tecnica molto comoda è quella dello slap and fold Cioè schiaffa e piega Cosa vuol dire? Io faccio proprio uno schiaffo al mio impasto e lo ripiego su se stesso In questo modo Man mano che darete queste pieghe Sentirete l'impasto sempre più tenace sotto le dita Quando l'impasto inizia a essere molto ma molto meno appiccicoso Lo facciamo riposare 10 minuti Sono passati 10 minuti Partiamo con le prime pieghe Mano umida Tiriamo una parte di impasto e la portiamo al centro Ruoto, prendo l'impasto e lo porto al centro Fino a che non rimbocco tutto l'impasto Lascio sempre la chiusura in basso Copro con canovaccio E ripeto quest'azione per tre volte a distanza di 10 minuti l'una dall'altra Dopo l'ultimo giro di piego lasciato riposare per altri 10 minuti l'impasto Possiamo passare alla laminazione Inumidiamo leggermente il nostro piano da lavoro Ci trasferiamo l'impasto E iniziamo ad allargarlo Ricordatevi sempre di avere le mani belle umide Quest'ultimo passaggio ci farà sicuramente dare più tenacità al nostro impasto Ma ci farà anche vedere se abbiamo fatto un buon lavoro Perché così si scopre se abbiamo formato perfettamente la nostra maglia glutinica E dalla resistenza che fa il nostro impasto Mi sembra che ci siamo Ripieghiamo l'impasto al centro Guardate già quante bollicine stiamo creando Creiamo proprio l'ultima tensione Guardate che bello Ecco qua Lasciamo il nostro impasto a lievitare un'ora a temperatura ambiente coperto con pellicola E dopodiché 24 ore in frigorifera Il mio impasto ha lievitato perfettamente Lo trasferisco sul piano da lavoro Io non vedo l'ora di farcirla con... Non ti dico con cosa Non te lo dico Adi Non te lo dico neanche a te Ma voi nei commenti mi dovete scrivere come la farcite voi a casa vostra O come la chiedete al panettiere Tarocco più potente e tagliente Stagliamo dei pezzi da 280 grammi Con queste dose verranno 6 pizze bianche da circa 280 grammi l'una Un pochino d'olio Ora, sempre con le mani oliate, prendo il nostro impastino Chiudo al centro da entrambi i lati E gli do la forma di un rettangolo senza lavorare troppo l'impasto Un altro po' d'olio che non fa mai male Adesso le prime tre sono pronte Le lasciamo 90 minuti coperte con la loro copertina d'olio a temperatura ambiente Dopodiché possiamo cuocere Pronti per cuocere Forno alla massima potenza La teglia si sta scaldando per bene Mi ungo le mani di olio Fa anche bene Olio anche sul piano da lavoro La stendo sul piano E la vado a cuocere sulla teglia da forno ribaltata Che ho tenuto 30 minuti in forno a riscaldare In questo modo riceverà una bella spinta dal basso E sembrerà di utilizzare uno di quei forni professionali Prima di infornare la condisco con un po' di fiocchi di sale Teglia super calda, rovesciata Olè Inforniamo sempre alla massima potenza E cuociamo per 8 minuti La nostra pizza bianca è quasi pronta Ora la trasferiamo su gratella E lasciamo cuocere altri 3 minuti Ma in modalità ventilata Sempre alla massima potenza E anche l'ultima E' pronta? La pizza bianca romana deve essere unta al punto giusto E scrocchiarella Sentiamo senza ascoltarci E non ci resta che farcirla O assaggiarla appena sfornata Manca qualcosa però Pizza bianca romana con la mortadella Cioè ma più di così E adesso assaggiamo Franchini al criminale Questa ti piacerebbe tanto Ragazzi da paura Te fa uscire il testo Amici romani scusatemi Vamo